A nome di chi mi ha votato, la maggioranza, la casa delle libertà, pensiamo che sia un fatto di libertà, il non sentire soprattutto nel servizio pubblico, chiamarci casa nostra, dire che Berlusconi è paragonabile a Mussolini, dire tutte quelle cose, Biaggi l'ha fatto in una trasmissione in cui c'ero io, quindi glielo posso dire per averlo ascoltato come domanda, deve aver paragonato a Mussolini, questo non è possibile, perché è un fatto di libertà, soprattutto nel servizio pubblico. Non capisco perché se uno vuole paragonare Berlusconi a Mussolini non può farlo, scusate non vi sovrappone, lei ha fatto un'affermazione, perché uno non può paragonare alle 20 e 30, alle 12 e 30, alle 18 e 30, a mezzanotte Berlusconi a Mussolini, perché non può?